No, abbiamo spiegato, ho spiegato personalmente a molti esponenti del centro-destra e anche al loro segretario e ministro che questo non procura un documento a loro. Però voi mi segnate che il diavolo spesso sta nei dettagli. C'era qualche maliziosa interpretazione rispetto a quello che veniva scritto, abbiamo chiarito che non c'era nessuna maliziosa interpretazione e quindi ritengo che il testo che adesso verrà votato in Commissione sia un testo che sia molto chiaro e molto trasparente, in base ai criteri che ho espresso prima. Quando?